benvenuti a questo nuovo video del conevic channel italia oggi continuiamo con l'analisi del sistema multimediale non so più a questo punto se chiamarlo tipo 2 o come comunque col sistema multimediale diciamo con l'ultimo aggiornamento che è stato fatto sulla mia cona ci rimane una cosa dal video precedente ovvero sia andare a vedere come fare ad evitare il salto tra la stazione dub e la stazione fm e poi vedremo ci sono c'è qualche altra regolazione per quanto riguarda sempre l'audio e la radio in particolare e poi diciamo su input di ezio auditore ho provato a collegare il telefono di nicoletta alla macchina e ho visto che cosa succede cambiando utente cambiando telefono switchando i telefoni non ho potuto telefonare e vedere che cosa succedeva perché tutte e due i telefoni erano riconosciuti dalla macchina quindi non potevo telefonare da uno all'altro perché il sistema multimediale o me ne fa sentire uno o mi fa sentire l'altro quindi non avrei potuto comunque farlo sì avrei potuto chiedere a qualcuno di telefonarmi ma insomma sarebbe stato complicato in ogni caso si capisce comunque dal video come funziona andiamo in quindi per poter fare l'operazione che ho descritto all'inizio del video ho due possibilità o scorro la paginata e vado su radio e quindi mi partirà la radio oppure sempre da qui cioè dalla schermata iniziale semplicemente premendo radio ottengo la stessa cosa a questo punto devo andare all'interno del menu e vedete abbiamo una serie di voci schermo off lista si fa vedere la lista di tutte le radio che che ha trovato e ce n'è una quantità incredibile nonostante noi siamo in una piccola regione cancellazione del rumore fm l'abbiamo già visto nelle impostazioni scansione dabb fm se clicco qui in pratica la radio comincia a scansionare da 88 a 108 e mi tira giù le radio che incontra che finiranno poi nella lista che abbiamo visto prima sintonizzazione manuale fm in pratica ci fa vedere una scala parlante possiamo sintonizzare girando la manopolina finché troviamo la stazione che ci interessa oppure come anche normalmente senza entrare nella sintonizzazione schiacciando sic il tasto verso sinistra il tasto destra la sintonia si sposta torniamo indietro troppo ok menu e vedete queste voci TA e traffic announcement quindi se stiamo ascoltando una radio e ci dovesse essere un un annuncio di problemi sul traffico in pratica verrebbe emesso questo annuncio locale se la spunto la radio rimane sintonizzata sulla stazione che ho scelto se invece è spuntato locale se scende troppo il livello del segnale fm o dabb dovrebbe automaticamente passare a un'altra stazione e siamo arrivati al punto che dicevamo prima all'inizio nello scorso video la commutazione dabb fm se io premo spunto questa casella la sistema multimediale farà la commutazione dabb fm nel caso di segnale più debole se invece tolgo questa spunta in pratica la radio se ho sintonizzato una radio dabb rimarrà sulla radio dabb se lo sintonizzati invece fm rimarrà sulla radio fm impostazioni audio sono le stesse impostazioni che abbiamo già visto nel nei nostri menu di configurazione manuale facendo la scansione di questo codice qr otterremo un indirizzo http una pagina web dove troveremo il manuale del della 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 radio a split screen se faccio split screen quando entro nella nella radio in pratica mi fa lo split screen e quindi qui può apparire qualcos'altro in questo caso la batteria ma volendo posso tornare a schermata piena abbiamo visto come evitare il problema del salto tra dabb fm che almeno qui su diverse radio da piuttosto fastidio quindi preferisco che so tenerla su dabb magari per un attimo non la sento oppure su fm per un attimo avrò un po più di fruscio piuttosto che avere questo salto che o mi taglia un pezzo di canzone o me la ripete adesso passiamo al all'abbinamento del telefono a di un altro telefono di un secondo telefono sul sistema multimediale sarà il telefono di nicoletta e vediamo un po' che cosa succede allora come prima cosa direi che dobbiamo dire al nostro telefono di essere visibile su youtube bluetooth su bluetooth visibile ai dispositivi perfetto allora adesso proviamo quindi impostazioni connessione dispositivo connessione bluetooth aggiungi nuovo ok nel dispositivo bluetooth cerca e associa il nome del veicolo indicato per cui impostazioni bluetooth con associazione 617760 associazione 617760 associa viva voce collegare un nuovo dispositivo no consentire accesso ai contatti ok consenti ora la funzione è disponibile in questo momento noi abbiamo due telefoni connessi quindi adesso abbiamo la possibilità di scegliere quale telefono impostare come prioritario qui siamo sul mio utente andiamo in impostazioni connessione dispositivo connessioni bluetooth e vedete che ho il galaxy s10 che è collegato per quanto riguarda le telefonate perché era il primo nell'elenco e poi lo huawei p30 light di nicoletta torniamo indietro cambiamo utente proviamo a prendere il conducente 2 conferma 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 andiamo a vedere sempre 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 impostazioni connessione dispositivo connessione bluetooth e vedete che ci sono i due telefoni in questo caso io non avendo impostato niente no non ho impostato niente ma mi è rimasto sempre galaxy s10e come primo e huawei p30 light come secondo e quindi i profili non influiscono sulla connessione del telefono e quindi i profili non influiscono sulla connessione del telefono adesso andiamo su telefono e proviamo a fare lo swap cambio dispositivo e quindi ok cambio dispositivo sconnetto sconnetto il galaxy s10 e si sta connettendo al huawei p30 light e quindi vedete che sono cambiati gli indirizzi e di conseguenza in questo momento l'impianto multimediale sta utilizzando non più il mio galaxy s10 ma lo huawei di nicoletta stessa identica cosa se io vado su per angelo e vado su telefono ho il mio telefono faccio lo swap faccio lo swap huawei p30 light disconnessione galaxy s10 disconnesso e si sta collegando allo huawei di nicoletta e si è connesso al huawei di nicoletta come abbiamo visto a quanto pare se i telefoni sono entrambi in auto ovviamente in pratica indipendentemente dal profilo che noi abbiamo caricato i telefoni vengono comunque visti entrambi e si può fare in tutto il video ho detto swap in realtà volevo dire switch ma forse non c'è questa grossa differenza tra swap e switch vabbè quindi pare parrebbe che il profilo il cambiamento i differenti profili non influiscono sul funzionamento del riconoscimento e dell'utilizzo dei diversi telefoni che possono essere in auto in quei momenti dei diversi apparecchi multimediali collegati in bluetooth se avete notato perché me ne sono accorto anche io guardando il video quando ho cambiato l'utente è cambiata anche l'ora perché con il mio utente c'era l'ora legale invece con l'utente conducente c'era l'ora solare quindi tutta questa serie di impostazioni sono delle impostazioni che dobbiamo fare per i diversi profili il discorso della password rimane comunque quello secondo me non ha nessun senso ed è solo una rottura di scatole impostare la password perché poi ogni volta bisogna tanto poco importa se cambiando utente cambia l'ora ci si accorge che mentre l'utente Pierangelo ha l'ora legale l'utente conducente ha l'ora solare credo che interessi proprio a nessuno adesso proviamo a collegare il mio telefono con il sistema android auto e vediamo se ci riesco e che cosa succede eccoci qua per provare android auto allora noi possiamo andare su proiezione telefono ma in pratica l'unica cosa che ci dice proiezione telefono è quello di collegare il telefono tramite un cavo usb approvato e l'hanno scritto pure in grassetto poi che cosa si intende per cavo usb approvato è una cosa tutta da chiarire o meglio da capire quindi per utilizzare android auto in macchina con questo sistema multimediale bisogna collegare il telefono con un cavo usb alla presa usb che abbiamo per esempio nello sportellino anteriore quindi colleghiamo il nostro cavo usb e vedete che è apparso il simbolino android auto andiamo su android auto e la prima cosa che ci appare o almeno che appare a me la prima cosa che appare è la mappa di google maps avete sentito che mi stava dicendo dove io avrei dovuto andare perché avevo impostato un indirizzo in aosta e quindi mi stava dicendo dove dove dovevo andare qua qua abbiamo le app che possiamo utilizzare con android auto o con android auto e il mio telefono non lo so perché non sono molto ferrato sull'argomento ho notato che nelle mie app c'era next charge e quindi anche qui c'è next charge adesso provo a farlo partire ma in una prova precedente ho avuto qualche problema invece qui ha funzionato in un'altra volta mi diceva che c'era c'era un problema con l'applicazione quindi non poteva partire però next charge in realtà su android auto è molto limitato perché in pratica ci indica soltanto le stazioni vicine le stazioni preferite più vicine e solo le stazioni che sono collegate con il circuito next charge ammesso che ce la faccia aspettiamo ancora un attimo poi eventualmente lasciamo perdere ecco sono arrivate le stazioni next charge che possiamo utilizzare nelle vicinanze però non possiamo non possiamo non possiamo in pratica da quanto ho capito però può darsi che si possa ma io non ho visto come fare non si può impostare un percorso e quindi dirgli voglio andare da lì a lì e avere tutte le altre funzioni di next charge che ho sul telefono o tramite il pc morale della favola questo è per quanto riguarda l'utilizzo di android auto con il sistema multimediale vedete che le app in realtà sono molto meno di quelle che io ho in realtà sul telefono e quindi evidentemente queste saranno le app che possono funzionare con android auto morale della favola è stato più semplice del previsto infatti se il telefono è predisposto è sufficiente infilare il cavetto usb io ho usato quello che normalmente uso per la ricarica del telefono nonostante dovessero essere cavi usb approvati e android auto funziona si clicca su android auto e si hanno a disposizione un certo numero di app io dico subito non sono molto ferrato in questo argomento ho qualche nonostante abbia lavorato per anni nel settore della programmazione in php server e mica server e quindi parecchio nell'informatica ci sono delle cose che proprio mi rifiuto di capire uno in gran parte sono i telefoni e l'altro è il funzionamento delle fotocopiatrici è proprio una cosa che non ho voglia di impararlo e quindi faccio una fatica io se devo fare un fronte retro da due fogli su una fotocopatrice devo fare almeno diciotto prove prima che mi venga giusto comunque se devo dire la verità allo stato attuale delle cose e sempre che io abbia visto tutto quello che c'era da vedere non vedo questa grande utilità perché in pratica posso navigare con google maps ma ho anche il navigatore della macchina quindi perché posso vedere le stazioni vicine con next charge e con next charge in pratica mi sembra di aver capito che posso fare solo quello e vabbè anche la la cona mi dice vabbè non sempre comunque mi dice quali sono le stazioni vicine e in ogni caso probabilmente se imposti un percorso con il navigatore satellitare e gli dici di segnalarti le stazioni lungo il percorso alla destinazione probabilmente me le segnala quindi spotify non lo uso già normalmente per cui usarlo con android auto auto perché quindi allo stato attuale delle cose android auto non mi sembra questa gran cosa abbiamo terminato anche il video di oggi l'appuntamento non so ancora di che cosa parlerò probabilmente andrò a vedere se mi sono dimenticato ancora qualcosa sull'impianto multimediale l'appuntamento dicevo è al prossimo video ciao 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 ciao